Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un bel volume pubblicato da poco da Sismel, che sono i Dictamina di Bonfiglio d'Arezzo, edizione critica a cura di Giancarlo Alessio, che abbiamo il grande piacere di avere nostro ospite perché ci parli di questa interessante pubblicazione. Quindi come mia abitudine io le lascio subito la parola e poi nel corso della presentazione se avrò domande gliele farò volentieri. Quindi prego a lei. Benissimo, io la ringrazio tantissimo, ringrazio per questa veramente importante riunione che abbiamo fatto qui e allora io comincio con la mia lezione. Mi vede lei perfettamente? Sì. Benissimo, benissimo. L'edizione dei Dictamina di Bonfiglio d'Arezzo che presento, pur senza dire dei problemi strettamente filologici, a cui se vai andrà dedicata un'altra seduta, subito crea un interrogativo. Bonfiglio, e chi era Costuzzo? E forse un poco oscuro è anche il titolo imposto all'edizione, cioè i Dictamina. Di Bonfiglio, morto poco prima del 1266, diremo qualche parola più avanti. E veniamo al titolo. Il Dictamen era una parola latina che nasce nel XII secolo. Dictamina è il suo plurale e indica una raccolta di modelli di lettera, quindi non di lettere effettivamente inviate, di lettere per così dire reali, ma di esempi fittizi che servivano ad insegnare come una lettera dovesse essere scritta. E allora ci domandiamo, che bisogno vera di questo insegnamento? A chi era diretto? Chi insegnava a scrivere una lettera? La lettera, la comunicazione epistolare, è nel Medioevo il veicolo privilegiato per la comunicazione sociale, politica, economica o anche privata tra gli assenti. Infatti, solo col 200 avanzato, inizia ad avvertirsi la necessità di una più rapida comunicazione attraverso l'oralità, quando cioè si moltiplicano le relazioni sociali e soprattutto si rinnovano i modelli di governo della cosa politica. Dobbiamo però ricordare che sempre nei secoli medievali la lettera serviva, fatte rarissime eccezioni, non per comunicare notizie personali, come era ad esempio per l'episolo di Cicerone o 14 secoli dopo per le lettere familiari di Francesco Pecciolacca, ma era scritta per imporre una volontà o per avanzare una richiesta. Ma per la maggior parte delle epistole medievali e quindi anche per dei modelli che insegnavano a comporle, la maggior parte delle epistole medievali è soprattutto destinata ad avanzare una richiesta e pertanto deve essere confezionata avendo presente la funzione che è il raggiungimento dello scopo, vale a dire doveva essere scritta in modo tale da far conseguire all'intente quanto egli desiderava ottenere dal destinatario. Per raggiungere tale scopo la lettera doveva essere dunque congegnata in modo appropriato e questo modo non era lasciato all'improvvisazione dell'intente, ma si insegnava ad opera di appositi maestri, i dictatores, cioè i dettatori, il cui fine era quello di formare persone esperte nella scrittura, nella scrittura della lettera ovviamente, che trovassero poi impiego nelle cancellerie private o pubbliche. I dictami di Bonfiglio, dunque, altrano solo che modelli di lettera che venivano letti e commentati dal maestro e copiati dagli studenti. Per mezzo dei modelli, probabilmente imparati a memoria e grazie alle spiegazioni del maestro, gli studenti apprendevano quanto serviva a comporre un'epistola, un'epistola efficace a persuadere il destinatario della necessità o opportunità di soddisfare le richieste del middette. La lettera dunque, poiché aveva come scopo quello di persuadere il destinatario, doveva contenere tutte le ragioni oggettive e le sollecitazioni emotive che valessero a far ottenere una risposta favorevole alla richiesta avanzata, ragioni e sollecitazioni disposte dentro una griglia che obbediva ad una successione logica ed emotiva ordinata e necessaria, riflessa da una struttura obbligata dell'epistola stessa. Tale griglia è rappresentata dalle parti in cui si articolava la lettera, ciascuna di esse destinata ad una particolare funzione, ma tutte convergenti all'unico scopo, di persuadere il destinatario ad accogliere le istanze presentate nel middette. Queste parti, da svolgersi in un ordine fisso e immutabile, invariabile, erano cinque. Anzitutto una complessa formula di saluto intesa ad esaltare il ruolo sociale o politico del destinatario. Poi un esordio che esponeva un principio morale incontrovertibile, accogliendo il quale diveniva quasi necessario che la domanda del middette dovesse essere accorta. Seguiva la narrazio, cioè la narrazione, cioè l'esposizione oggettiva delle difficoltà in cui si trovava il middette che valessero a giustificare la sua richiesta. Infine, penultima parte dell'epistola della lettera, la petizio, cioè la domanda, in cui era esposta la richiesta del middette vera e propria. Concludeva la conclusio, cioè la conclusione in cui si delineavano i vantaggi che il destinatario avrebbe ottenuto accogliendo la domanda del middette o, diciamo, qualche volta anche l'elenco degli svantaggi che avrebbe invece sofferto non assecondando la domanda. Tutto questo era calato in un vero e proprio codice comunicativo che lo scrivente doveva conoscere e quindi doveva imparare. Ad esempio, faccio un esempio, la salutatio, cioè la formula di saluto rivolta al destinatario, doveva contenere tutti i titoli onorifici legati alla professione del destinatario. Inoltre la dichiarazione di subordinazione sociale del mittente nei comprovi del destinatario stesso. Inoltre era richiesta una formula bene augurante rimolta al destinatario e trascelta appropriatamente in funzione dell'analazio e della petizio. Se posso dare un esempio, ecco qual è un esempio di salutatio che traduco e che prendo proprio dai dittamini di confinio. Questo era il saluto che si rivolgeva all'inizio dell'epistola al destinatario. Al suo padre, al signore Alberto D'Alentini, da riverirsi con sconfinato affetto, Raineri, il più umile dei suoi figli, auspica con reverenza di figlio che stia in salute per tutti i suoi giorni. Una salutatio molto diversa dal nostro ciao o dal nostro salve. Tutto questo era insegnato in due modi. O da un punto di vista soltanto teorico, per mezzo di appositi trattati corredati da qualche esempio. O dal punto di vista per così dire pratico, cioè attraverso lo studio di modelli come appunto è nel caso dei dictamina di Bonfiniti. Ma l'aspetto più complesso e raffinato della lettera era però quello che riguardava lo stile della scritta. La lettera non doveva essere sempre stilisticamente uniforme, ma differenziata a seconda dell'argomento e soprattutto a seconda dell'importanza sociale del mittente o del destinatario. La scuola medievale insegnava che tre erano i livelli stilistici, il livello alto, quello medio e quello basso. Si prescriveva quindi che in un modo dovesse scriversi ad esempio all'imperatore o al papa le due figure somme nella gerarchia sociale, in un altro a un funzionario di basso. Scrivendo all'imperatore occorreva utilizzare uno stile alto, complesso sintatticamente e ricco di ornamentazione retorica. Lo stile invece più semplice e dimesso, medio o umile, era invece prescritto nel caso si iscrivesse a una persona di pari o inferiore livello sociale rispetto a quello medio. Tutto questo avveniva, occorre nel presente, scrivendo quasi esclusivamente in latino. Le lettere in volgare iniziano ad essere fitte soltanto a partire dal XVI secolo, sicché era richiesto che lo studente fosse in grado di maneggiare con disinvoltura la lingua latina che si imparava frequentando corsi di grammatica, da che si evince che questo insegnamento, insegnamento del dictamen, non era un insegnamento elementare, ma un insegnamento già evoluto a livello di studio abbastanza avanzato e progredito. Il maestro, come ho appena detto, poteva somministrare il suo insegnamento per mezzo di un apposito trattato teorico che poteva avere scritto egli stesso o utilizzando il trattato di un maestro precedente. Ma un maestro come Bonfiglio, che proponeva esempi pratici, non un'esposizione teorica, come si procurava i modelli di epistola che erano letti e studiati dai suoi allievi? E qui le risposte sono varie e per alcuni aspetti ancora incerte. È certo che il maestro scrivesse i modelli di lettera da sé quando gli argomenti fossero tutto convenzionali, ad esempio nel caso di tipologie epistolari come quelle in cui un studente scrivesse ai parenti per ottenere aiuti il denaro o il prezio di un oggetto o di un animale, soprattutto il prezio di un cavallo, era un argomento molto previsto. Qualora invece il modello di epistola fosse costruito narrando un accadimento per così dire storico, esso era materialmente scritto dal maestro, ma l'argomento svolto nel modello di epistola poteva avere come fonte un evento storico realmente accaduto. Stabilire con sicurezza quando le cose siano andate così e quando invece sia trattato di una invenzione, una completa invenzione del maestro, del tutto verosimile, ma in realtà fittizia, è talora molto complesso e sovente insicuro da decidere. Infatti i modelli tramadano il più delle volte episodi di cronaca spicciola e raramente si dà la possibilità di verificare se il fatto storico menzionato nel modello possa considerarsi un episodio effettivamente accaduto, ma a noi oggi del tutto sconosciuto e di cui invece il maestro scrivente era al corrente per averlo o udito o letto in un documento ufficiale, oggi permette. Vi propongo un bel caso, narrato sempre nei dictami di Bonfitto. Egli scrive un modello di lettera in cui racconta che la contessa di Sinalunga viene a sapere che il maggiore dei suoi figli è stato persuaso a farsi frate dai frati francescani. La contessa scrive allora a illustri personaggi ecclesiastici, in particolare all'allora onnipotente cardinale Ottaviano Ubalvini, ve lo supplica di intervenire presso i frati perché consentono al figlio di gettare l'abito monastico e di ritornare in famiglia. E' questo un episodio vero, realmente successo o è un episodio immaginato da un figlio? Non abbiamo documenti in proposito, solo sappiamo che casi del genere, proprio a carico dei francescani, non erano infrequenti. Ma riusciamo a dire, così ragionando, che solo 8 dei 164 dictami di Bonfiglio consentono di accertare che egli abbia utilizzato un fatto realmente accaduto per comporre i suoi modelli di lettera. In sintesi, in sintesi, questi sono dunque i dictami di Bonfiglio, che sono pubblicati in questa edizione. Sono modelli di lettere, scritti da Bonfiglio stesso, riferiti a personaggi ad accadimenti talora fittizi, talora realmente esistiti o successi e legati solitamente al suo tempo e alla sua area geografica. Per Bonfiglio, questa, la geografica, è ad esempio il Casentì, Bonfiglio lavorava ad Arezzo, fra Arezzo e il volto di San Sebocco. Costruiti i modelli con attenta divisione delle parti della lettera e con lo stile adeguato al personaggio a cui si trattava nell'episodio stessa. Ed ora, due parole su chi mai fosse Bonfiglio. Un nome certo sconosciuto anche a medievisti di buona esperienza. Era, l'abbiamo detto, un maestro di equittà. E' un maestro, come si suol dire, itinerante, nel senso che si spostava a seconda l'occasione nelle scuole che richiedessero il suo insegnamento. A differenza però di altri maestri, i suoi spostamenti non furono molti, perché insegnò prima a Borgo Sansepolcro e poi ad Arezzo fino alla morte, avvenuta, come ho detto, poco prima del 1266, quindi pochissimo tempo prima della nascita di Dante. Per il resto, il nostro maestro è un discreto fantasma, di cui può solo dirsi quello che non fu anche notaio, come correntemente si dice, e nemmeno intervenne attivamente nell'amministrazione a retina, come anche si crede. E' invece probabile, sebbene manchino prove sicure, che aveva insegnato nell'università di Arezzo, lo studium di Arezzo, sebbene non possa escludersi che Bonfiglio tenesse una scuola privata collegata allo studium come non era imprequente nel XIII e poi soprattutto nel XIV secolo. Poco ci dicono anche i suoi dictamina, o meglio, poco dicono i suoi dictamina anche della sua cultura. Egli appare ancora assai lontano da qualsiasi influenza umanistica che già al suo tempo iniziava a balluginare. E' invece legato alle movenze culturali tipiche della prima metà del XIII secolo, vale a dire all'impiego dei suoi testi, della sua scrittura di citazioni bibliche e invece ad una quasi totale assenza di citazioni di autori classici, come invece era in uso prima nel XII secolo e poi già alla fine del XVI. La sua scrittura è invece preziosa e difficile per la complessità della costruzione sintattica dell'ordine delle parole e la difficoltà del lessico, un insieme direi barocco, estremamente barocco, al punto di avere probabilmente condizionato la scarsissima fortuna di sua dictamina, che oggi sono conservati parzialmente da un unico manoscritto e da sporadiche testimonianze stravaganti, tutte però collegate all'ambiente aretino-selese e quindi a una diffusione dei suoi scritti che non valica il stretto ambiente in cui egli aveva vissuto e insegnato. Ma sento qui a reggiare una domanda. Se abbia senso impegnare tempo e un poco di ingegno per studiare questo tipo di testi e recuperare personaggi minori quali l'onfiggio. Posso rispondere che recuperare un testo anche minimo è aggiungere una maglia alla rete dell'insegnamento della parola ornata che ha reso grande la cultura italiana nel medioevo. Cultura che fu imitata da tutta Europa. E ancora rispondo con le parole di un maestro del passato. Se si trascurassero le piccole cose anche le grandi rischierebbero di essere circondate da un arrone di nebbia. Mancherebbero cioè del contesto in cui sono immerse e che in definitiva le spiega e le fa grandi. E vi offro, in conclusione, una conferma di quanto disse l'antico maestro. In ontictamen, Bonfiglio, distinguerà il parlare come facoltà proprie dell'uomo e l'uso dell'eloquenza, l'arte, cioè la tecnica del parlare o scrivere per persuadere o commuovere. Eloquenza che è invece acquisita con studio e fatica. Ma questo non è forse quello che dopo quasi mezzo secolo dirà Dante in quel suo capolavoro che si intitola De vulgari eloquenzia, cioè dell'eloquenza volgare. E il dire, e il grande Dante lo dirà con parole quasi identiche a quelle usate dal piccolo Bonfiglio. Ma a fronte di Bonfiglio con acutissima percezione linguistica e irraggiungibile rigore teorico. Io finisco, se basta, se no vado avanti con la filologia. No, no, basta, basta. Può bastare, può bastare perché davvero è molto interessante e deve essere stata una ricerca complessa. E quindi io, come mia abitudine, ricordo il titolo del volume perché possano tutti andarselo ad acquistare in libreria. Ed è Dictamina di Bonfiglio d'Arezzo, edizione critica a cura di Giancarlo Alezio, pubblicato da poco dalla Sismel di Firezze. e io ringrazio tantissimo il nostro ospite per avercene raccontato il contenuto e quindi mi auguro che appreziate questo sforzo fatto per ricostruire anche la figura di Bonfiglio d'Arezzo. Professore, grazie davvero tanto. Grazie a lei tantissimo e arrivederci presto, spero, da qualche parte.